Quando le cose si mettono male non è il momento di lasciar perdere, è il momento di impegnarsi ancora di più. L'impegno non deve dipendere mai dai risultati che abbiamo, ma sempre dalla voglia di farcela. Eppure molto spesso quando incontriamo delle difficoltà nel nostro cammino perdiamo la nostra motivazione, crediamo sia il momento di cambiare strada, crediamo sia il momento di lasciar perdere. Invece è il momento di iniziare. Tutto quello che viene prima delle difficoltà è solamente il riscaldamento, è quello che sapevi già fare, ma da quando diventa dura, da quando quello che sappiamo fare non basta più, è da lì che inizia la crescita, è da lì che ridefiniamo i nostri limiti, è da lì che costruiamo il nostro carattere. Ma per farlo dobbiamo affrontare queste difficoltà, perché quelle sfide che dobbiamo superare sono ciò che ci trasformerà in quello che vogliamo essere. Lo so che è difficile quando il nostro massimo non basta, quando non abbiamo i risultati desiderati, quando tutto sembra andare nella direzione sbagliata, ma è proprio lì che si fa la differenza. Quando abbiamo paura, ma continuiamo ad andare avanti lo stesso. Quando non ci sentiamo all'altezza, ma ci proviamo ugualmente. Quando non abbiamo voglia, ma andiamo ad allenarci. Quando continuiamo a sbagliare, ma cerchiamo ancora un modo per migliorare. Questo significa rendere i propri sogni in realtà. quando sbagli, cambi qualcosa ci riprovi. E se sbagli ancora, cambi qualcosa ci riprovi. E se sbagli ancora, cambi qualcosa ci riprovi. Fino a quando non riesci in quello che stai facendo. Mollare non è un'opzione. Non sei arrivato fino a qui per mollare ora. Se volevi mollare, dovevi farlo tanto tempo fa. È troppo tardi per arrendersi. È troppo tardi per lasciar perdere. È tempo di andarti a prendere quello che ti spetta. Sei capace di molto di più di quello che pensi. Puoi sopportare molto di più di quello che credi. Ma se lasci perdere ora, non scoprirai mai il tuo vero potenziale. Al di là di quelle sfide, al di là di quel dolore, al di là di quella paura, c'è una ricompensa che ti aspetta. Ma devi lottare per andartela a prendere. Se fosse stato facile, tutti lo avrebbero fatto. Devi andare oltre le tue paure. Devi andare oltre il tuo dolore. Devi andare oltre le tue incertezze. È ora di dare il massimo. È ora di tirare fuori la grinta. È ora di mettersi al lavoro. Grazie. 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 Grazie.